Buongiorno a tutti, sono Elisa Antognini e vorrei porvi tre domande. La prima, avete mai pensato a oggetti nati con una funzione che con il passare del tempo acquisiscano sempre più funzioni? Un esempio, il telefono, nato per mettere in comunicazione due persone lontane tra loro, ad oggi ha 200 e più funzioni. La seconda domanda che vi voglio fare è questa, perché una semplice etichetta non può essere molto di più? Con Univocal questo è possibile. Univocal è un'etichetta interattiva unica e riproducibile, in grado di rendere ogni prodotto unico al mondo. Come ci riesce? Grazie a due tecnologie, l'NFC e la firma digitale. L'NFDC forse lo conoscete per i micropagamenti, ma attualmente McDonald's ad esempio sta facendo una campagna per mettere dei tag NFC nei suoi tavoli a scopo ludico, diciamo, per i bambini. La firma digitale è questo che ci contraddistingue e rende sicurissimo il nostro prodotto. Infatti, pensate, viene utilizzato per atti notarili, per acquistare case, quindi è super sicura. Come funziona? È difficilissimo. No, sto scherzando, è semplicissimo. Basta avviare l'applicazione, avvicinarla al nostro prodotto, con l'etichetta naturalmente, e l'applicazione dirà se il prodotto è vero oppure no, il tutto offline. Inoltre, darà informazione al vostro prodotto, quindi l'informazione adesso associata che il brand vuole dare. Cosa succede in caso di furto? In caso di furto, il brand può revocare il certificato di firma digitale e in tal caso, quando il cliente avvicinarà l'etichetta, avvicinarà il telefono all'etichetta, noterà che il prodotto è stato rubato. E in forma del tutto anonima, potrà inviare una segnalazione dove è situato il prodotto, quindi sarà già localizzato. Naturalmente, il mercato della contraffazione e la tutela del Made in Italy è molto importante, ma Univocal vuole dare un'altra, diciamo, innovazione a questa etichetta. Ovvero, vuole, diciamo, affrontare un altro tema che è quella delle strategie innovative di comunicazione e marketing. Dando informazioni dettagliate sul singolo prodotto. Come dicevamo prima, è importante lo storytelling, è importante la tradizione, è importante che il cliente lo sappia. Campagne promozionali in tempo reale, un po' come avere sempre un televisore a portata di mano. Fidelizzare il cliente tramite social network, che adesso diciamo che i social network sono diffusissimi. Ma Univocal, Univocal a chi punta per i propri servizi e a chi vuole prestare aiuto. A brand che hanno un elevato fenomeno di contraffazione e furto. Brand che hanno necessità di eliminare il mercato parallelo. Ad esempio, come in questa sala, quasi tutti ci siamo, per l'arredamento e per il design, che, diciamo, è una piaga molto importante. E brand che vogliono porsi su un target tecnologicamente avanzato. E brand con particolare interesse per l'export. Naturalmente non siamo i soli nel mercato dell'anticontraffazione. Esistono altre soluzioni, però il loro problema è che sono facili da riprodurre. Pensate a un QR code, una fotocopia e il gioco è fatto. E facili da colonare. I semplici tag NFC e RFD, ad esempio, l'RFD oltre al problema della privacy del cliente, possono essere colonati con una semplice applicazione nel telefono. Cosa vi offre Univocal? Univocal vi offre il potere di rendere il vostro prodotto unico, dandogli un nome e un cognome, un vero e proprio passaporto. Irriproducibile, come dicevo prima, grazie alla firma digitale. Tracciabile, la tracciabilità è importantissima. Informativo, perché? Perché il cliente vuole essere informato. Attualmente i clienti vogliono sapere l'informazione su quel prodotto, da dove proviene, da chi è stato fatto, ad esempio, che viene utilizzato. Collaborativo. Il cliente, oltre a esigere l'informazione, diciamo, vuole collaborare con il proprio brand. E Univocal vuole essere un ponte tra il brand e il consumatore finale. Facciamo degli esempi in questo campo. Ad esempio, cosa possiamo, altre funzioni oltre all'anticontraffazione, cosa possiamo mettere nell'etichetta? Un ricettario. Praticamente il cliente avvicina l'etichetta che sta nel bancone, vicino al bancone, e c'è la ricetta del giorno, ad esempio. Oppure il libretto di istruzioni, che vi dico che per esperienza personale è importantissimo avere vicino all'elettrodomestico, perché il libretto di istruzioni si perde. Poi, ad esempio, possiamo avere informazioni sui lavaggi, come trattare, ad esempio, il divano, la poltrona, eccetera. Possiamo avere le offerte sugli accessori, copridivani, cuscini, e tutto quello che volete. Un esempio ancora più generale, ad esempio, avremo una garanzia. Cioè, il cliente saprà quando scade la garanzia, cioè tutte le informazioni del prodotto. Potremmo fare abbinamenti, ovvero passando, ad esempio, il cellulare vicino a una poltrona, se voglio, ad esempio, acquistare una lampada, oppure uno specchio, mi può dire che, diciamo, che specchio o lampada sta meglio. Verificare l'originalità anche dopo anni. È un servizio che offrite ai vostri clienti. Ad esempio, dopo 20 anni, 10 anni, il cliente vuole cambiare l'armadio, la propria casa, voi gli offrite la garanzia che quello è originale e quindi, ad esempio, lo può rivendere come originale. È una forte personalizzazione. In che senso? Ad esempio, potremmo arrivare a una personalizzazione tale che quell'etichetta dirà, ad esempio, che quel letto è di Elisa Antonini. Da chi è nata l'idea? L'idea è nata da due ingegneri informatici, esperti in sicurezza informatica, che appunto hanno elaborato questa idea. In noi hanno creduto, come dicevano prima, molte persone, infatti siamo apparti su diversi giornali, abbiamo vinto diversi premi, tra cui Changemaker, come dicevano, abbiamo partecipato alla Fiera delle Startup, ci siamo classificati al quarto posto per popolarità, Univocal ha partecipato anche al Refashion di Cucinelli, e siamo stati selezionati per partecipare a SMAO. E siamo stati classificati tra le cinque startup più cool del panorama italiano. Il nostro percorso è supportato e sopportato da vari advisor, di esperti nei loro campi, e inoltre stiamo attuando un progetto pilota appunto con un brand di arredamento, Riva Mobili d'Arte. Adesso vi voglio porre l'ultima domanda. Vi ho convinto? Non mi rispondete perché di solito mi rispondono no. La vera domanda è, pensate che per un brand sia importante la lotta alla contraffazione, l'engagement del cliente e puntare sull'export sicuro? Se la risposta è sì, Univocal è la soluzione. Grazie.